Per i PME della Procura, quanto accaduta alla stazione di servizio GB Oil impone misure molto più severe nei confronti dei coinvolti nella rissa che ha preceduto gli spari esplosi dalla pistola impugnata dalla 34enne Paolo Quinto Di Giacomo. Ai giudici dell'esame di Caltanissetta ieri mattina hanno chiesto di rivedere i provvedimenti emessi dal GIP disponendo misure più rigide. Attualmente i coinvolti nella rissa sono sottoposti all'obbligo di dimora e a quello di presentazione. L'aggravamento è stato indicato anche per Giussi Di Giacomo, l'unica indagata alla quale il GIP ha deciso di non imporre restrizioni nonostante l'arresto sia stato convalidato. Tutte le difese si sono opposte, solo Paolo Quinto Di Giacomo è detenuto perché accusato del tentato omicidio della 42enne licatese Michele Cavaleri, a sua volta presente nella stazione di servizio quando si accesero gli animi a seguito di alcuni pesanti apprezzamenti. Negli scorsi giorni sempre i giudici del riesame accogliendo la richiesta dei difensori, gli avvocati Davide Limoncello e Carmelo Tuccio hanno annullato l'ordinanza per la posizione di Eliseo Di Giacomo, fratello di Paolo Quinto Di Giacomo. È caduta l'ipotesi del concorso nel tentato omicidio, anche se rimane l'accusa scaturita dalla rissa. Sempre ieri sono stati trattati i ricorsi avanzati dai legali di altri indagati coinvolti solo nella rissa tra i gelesi e i licatesi che hanno invece insistito per ottenere una revoca anche dell'obbligo di presentazione e di quello di dimora. L'inchiesta tocca a Michele Cavaleri, Salvatore Cavaleri, Salvatore Incorvaia, Migaela, Stefania Fanita, Giuseppe Nisellino, Angelo Voddu, Alessandro Di Michele, Paolo Biundo e appunto Giussi Di Giacomo sono difesi dagli avvocati Rosario Prudenti, Raffaella Anastasi, Giuseppe Vinci Guerra, Tommaso Vespo e Giovanni Cannizzaro. Sia sugli appelli della procura che sui ricorsi dei legali i giudici hanno deciso di riservarsi.